Buonasera a tutti e tanti, tanti cari auguri di buon anno anche da San Siro. Stiamo per vedere Milan-Juventus, la grandissima classica del calcio italiano. Il match fra la squadra che ha vinto di più in Italia, la Juventus, e la squadra italiana che ha vinto di più in Europa e nel mondo, il Milan. Chiaer di testa, la palla è per Akan. Akan fa un ottimo lavoro, poi allarga il gioco ma non riesce a raggiungere Castieco. Castieco recupera palla in aria, il tiro di Castieco, la parata di Cesni. La parata di Cesni, la grande occasione nostra. Percussione Juventus, di bala, di bala, di bala, attaccato di bala, che sì. Il tiro, la palla è alta, la palla è alta. Palla messa in mezzo, il colpo di testa proprio di De Ligt. Ancora Rabiot, bravo Chiaer. Poi ancora la Juventus di testa, grande elevazione di Chiaer. Il tiro, il palo, il palo clamoroso della Juventus. Il palo clamoroso di Chiesa. Chiesa se la vede con Teo. Eccolo Chiesa. Di bala, di bala, colpo di tacco. Il tiro di Chiesa, il gol. Gol di Chiesa. Gran giocata di Di bala. E Juventus in vantaggio. Juventus in vantaggio. Grande azione loro, niente da dire. Giallanoglu, siamo venuti via Svelti, siamo venuti via Svelti. La palla è per Rafa. Rafa viene in mezzo al campo a giocare. C'è Casti. Rafa, Rafa, prova ad andare. Rafa, Rafa, Rafa. Il tiro di Rafa. La palla esce di niente. Ha calciato e la palla è uscita di niente. Chiesa vede Ramsey. Ramsey fa un errore. Gnanspeter, 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 Gnanspeter. Leao, Leao. La parata di Czesne. Grande occasione Milan. Eccolo Teo. Che serve Leao, serve Leao Teo. Teo, Chialanoglu, la deviazione. La parata di Czesne ancora. La parata di Czesne ancora. Leao, Leao per Chialanoglu. Chialanoglu si gira. Il tiro. La parata ancora di Czesne. Ma quanto stiamo tirando? Chialanoglu. Mi sembrava fallo. Il Rati dice di no. Leao, Leao. Vai Rafa. Vai Rafa. Vai Rafa. Ecco Rafa. Rafa, Rafa. Si accentra Rafa. Calabria. Gol! Ha segnato Davidino. Ha segnato Davidino. Ha segnato Davidino. Davide! All'incrocio dei pali. L'1-1 del Milan. Davide! Protesta Pirlo per l'entrata di Akan. Ma l'azione poi è proseguita. Gol di Davide Calabria. Ecco la canna che prova a mettere in mezzo la palla per Dalò. Il tiro di Dalò. La parata di Czesne. La grande occasione di Diogo. Ci siamo sbilanciati. Ci siamo aperti. Chiesa contro Teo. Ho paura. Il tiro di Chiesa al gol. Il tiro di Chiesa al gol. L'abbiamo lasciato libero di tirare. Chiesa la piazzata alla destra di Gigio. Dalò prova a darla a Castiglieco. Castiglieco viene via. Castiglieco viene via. Castiglieco che brutto fallo di Bentancur. Mamma mia. C'ha la Noblu. C'ha la Noblu. C'ha la Noblu. C'ha la Noblu. Area di rigore. Tiro deviato. C'ha la Noblu. Angolo. Angolo. Ma non c'è il giallo. Ma non c'è il giallo. su Bentancur. Il giallo su Bentancur. Ehi. Oh. Cristiano Ronaldo contro Calabria. Vara a doppiare Brahim Diaz. Palla messa in mezzo. McKenney. Il tiro. La grandissima parata di Gigio. Enorme Gigio a deviare in calcio d'angolo. Ecco la palla lavorata dalla Juventus che va via bene con Rabiot. Attenzione. Rabiot ha preso. Attenzione a Rabiot. Attenzione a Rabiot ragazzi. Vi prego. Kulusevski. C'è campo per il loro contropiede. Kulusevski. Kulusevski contro Romagnoli. E c'è il gol loro. Ancora McKenney. McKenney. Donnarumma va dai rati. Donnarumma va dai rati. Ecco Teo che fa la vasca. Porta sul pallone. Castiglieco. Conti. Conti. Prova a mettere in mezzo. Leao ha cercato la rovesciata. Cialanoglu. Il tiro. Cialanoglu. Prova parata di Cesni ancora. Adesso è finita la partita ma noi dobbiamo prima di fare ogni tipo di polemico, ogni tipo di considerazione dobbiamo applaudire i nostri ragazzi. Orgogliosi dei nostri ragazzi. Mina da testa alta. Ciao a tutti. 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 Ciao a tutti.